Allora, famiglia, ho una bella sorpresa per voi. Siamo tedeschi? Non è questa la sorpresa. La vera sorpresa è che partiamo tutti per la Turchia. Ma allora cosa siamo, turchi o tedeschi? Tedeschi? Il tuo sperma ha fatto un casino. È inglese. Quando il nonno mi ha rapita, io ero incinta. Sono io l'unica rispettabile di questa famiglia. A quei tempi bastava che un uomo toccasse una donna non sposata ed era sua per sempre. Prendi questa e dicono che i tedeschi sono sporchi. E mangiano solo patate. Prego. Congratulazioni, lei è il milionesimo lavoratore immigrato in Germania. Venga. Ti sposti, per favore. Un topo gigante! Ci sono i topi giganti qui! Quello non è un topo, figlio di un asino. È un cane. E allora perché non ha le zampe? Che cos'è con la strana sedia? Oh. Ora che siete diventati cittadini tedeschi, vi iscriverete a un poligono di tiro, mangerete maiale due volte la settimana e ogni due estati andrete in vacanza a Mallorca. Almania, la mia famiglia va in Germania, dal 7 dicembre al cinema.